Allora io prego vivamente tutto il pubblico presente, anche i nostri giuria, tutti, incrociate le mani e portarle sulla fronte, così tutti, stringete bene le vostre mani. Scusa, questo è il famoso quando lo dirò io. Solo quando lo dico io. Solo quando lo dirò io. Stringete bene le vostre mani, ancora, stringeteli bene, anche voi grazie. Stringete bene le vostre mani, perfetto. Ascoltatemi attentamente, ascoltatemi attentamente. Io conterò da uno fino a tre e al numero tre chi sentirà le sue mani legate, le lasci legate. Pensano io a slegarle. Non ho capito. L'Elia, allora, l'Elia è un po' come te, non ha capito. Allora, io conterò da uno fino a tre e al numero tre chi sentirà le sue mani legate, le lasci legate. Pensano io a slegarle. Va bene. Si saldano. Si saldano sempre di più. Si legano. Si legano sempre di più. Si saldano sempre di più. Uno. Si legano sempre di più. Due. Ripeto per l'ultima volta. Chi sentirà le sue mani legate, le lasci legate. Equipmentare. Di più. Di più. Parlamphiana. Si saldano sempre. Ecological.